...fuera è del 30 de noviembre, perché ti sta costando un poco più di lavoro marcar fuori? Desde che sto in Spagna, dì un giocatore che ha marcado più gols che io, fuori di casa. Uno. Non lo hai. Si dice, se c'è qualcosa che ti contraddistingue, che tu hai sempre segnato moltissimi gols, sia in casa che fuori casa, anzi fuori casa addirittura di più. Quest'anno, invece, il tuo ultimo gol in trasferta risale al 3.